ciao a tutti oggi prepariamo un secondo veramente saporito il filetto di maiale con gli asparagi vi do gli ingredienti per quattro persone 4 500 grammi di filetto di maiale magro 500 grammi di asparagi freschi delle erbe aromatiche all'oro salve e rosmarino se vi piace dell'aglio mezzo cucchieno scarso di brodo granulare di verdura e se vi piacciono dell'aglio in polvere e del pepe verde macinato e infine ma non per ultimo lui il nostro ingrediente segreto procediamo ma prima vi ricordo che la lista completa degli ingredienti è qui sotto nella descrizione e vi invito a visitare il mio canale youtube ed iscrivervi è gratis così non vi perderete neanche una ricetta al lavoro puliamo e tagliamo gli asparagi e mettiamo da parte le ponte e se vi piace pulite pure uno due spicchi d'aglio scaldiamo una padella antiaderente fuoco alle polveri e non appena sarà calda mettiamo a rosolare il filetto dobbiamo farlo dorare bene su entrambi i lati a fuoco alto quando poi comincia ad essere dorato abbassiamo il fuoco al minimo e continuiamo la cottura aggiungiamo anche le erbe aromatiche e se vi piace anche l'aglio che dovremo muovere spesso assieme alle erbe aromatiche perché non bruciano e non diano l'amaro quando è bello dorato lo mettiamo da parte togliamo anche le erbe aromatiche e l'aglio e lo spennelliamo con l'ingrediente segreto poi lo copriamo e lo segniamo da parte per dopo quello che rimarrà dell'ingrediente segreto lo diluiamo con mezzo bicchiere d'acqua fredda nella stessa padella dove abbiamo cotto la carne aggiungiamo gli asparagi ma non le punte aggiungiamo il brodo granulare di verdura e se vi piacciono anche l'aglio in polvere e il pepe verde macinato poi aggiungiamo acqua fredda fino a coprire il tutto e li facciamo cuocere finché non diventeranno teneri io rimetto nella padella l'aglio quando hanno cambiato colore aggiungiamo anche le punte abbassiamo il fuoco al minimo e copriamo la pentola cuociamo per circa 5 6 minuti poi controlliamo la consistenza delle punte e quelle cotte le mettiamo da parte le dobbiamo rimuovere tutte a mano a mano che sono cotte le rimetteremo nella padella solo all'ultimo perché non si spaccolino aggiungiamo nuovamente la carne e poi lui il nostro ingrediente segreto mischiato all'acqua lo copriamo e terminiamo la cottura a fuoco bassissimo e come al solito se servisse potete sempre aggiungere un pochino di acqua fredda e una volta raggiunta la cottura desiderata lo affettiamo e lo serviamo ed ecco impiattato il nostro gustosissimo secondo e a questo punto vi svelerò l'ingrediente segreto sono tre cucchiai di aceto balsamico che daranno veramente un gusto particolare alla nostra carne buon appetito e mi raccomando condividete la ricetta con chi ha bisogno di perdere peso ma non vuole fare troppa fatica ciao al prossimo video